Ragazzi stasera una pasta veloce veloce ma molto buona Qua stanno cuocendo ora le zucchine Gli ho fatto un soffritto con dell'olio, dello scalogno Un pochino di olio al peperoncino molto buono che ho fatto in casa E delle acciughe Nel frattempo mi sto facendo un olio aromatizzato con l'acciuga E un po' di prezzemolo Vi dirò dopo come è venuto Le zucchine sono pronte L'olio aromatico anche L'acqua finalmente bolle Possiamo andare a buttare la pasta La pasta è pronta Sotto le zucchine accendo un attimo il fuoco Prima di spegnerla la pasta Butto un pochino d'acqua di cottura Nella padella E spengo il fuoco Butto la pasta scolata E vado a saltare Ecco pronti i miei sedanini con le zucchine Al profumo d'acciughe Grazie a tutti i nostri spettatori